ciao ti do il benvenuto sul canale io sono damiana e in questo video ti propongo una sequenza di in yoga si tratta di una pratica estremamente statica in cui rimaniamo in ciascuna posizione per alcuni minuti e in totale abbandono le posizioni sono studiate per lavorare sui meridiani di fegato e vescica biliare questi meridiani sono legati alla stagione primaverile e regolarizzano l'equilibrio energetico in tutto il corpo muovono l'energia verso l'alto esprimendo determinazione nuova fioritura il tendere verso un obiettivo e la volontà di dare un senso e una direzione alla propria vita inizio coricandomi a terra pancia in giù piego i gomiti appoggio la fronte sulle mani rivolgo l'attenzione al corpo che gradualmente si lascia andare in questa posizione rilasso l'addome rilasso le spalle abbandono il peso delle gambe poi rivolgo l'attenzione al respiro e per qualche istante semplicemente lo osservo osservo il flusso regolare e spontaneo del mio respiro che diventa sempre più lento sempre più profondo entro in una dimensione di ascolto interiore preparo mente e corpo alla pratica grazie a tutti 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 Grazie a tutti. Da qui sciolgo la posizione, piego il ginocchio destro, lo porto vicino al fianco, piego i gomiti e cerco di avvicinare il gomito destro al ginocchio. Appoggio la guancia a sinistra, a terra oppure sulle mani. Sento la stabilità della superficie sotto di me, che si concretizza proprio nei punti di appoggio del corpo alla terra. Una volta che mi sono sistemata nella posizione, il corpo si rilassa. Divento consapevole del movimento dell'addome che preme contro il pavimento e segue il ritmo del mio respiro. Grazie. 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 e di nuovo mi lascio andare alla superficie sotto di me sento il respiro nascere nell'addome e risalire verso l'alto divento consapevole del respiro attraverso le narici sento il fluire dell'aria attraverso le mie narici mi rilasso e mi lascio andare in questa posizione attraverso le narici attraverso le narici attraverso le narici Grazie a tutti. 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 Il bacino è in linea con le ginocchia, il busto scende in avanti, appoggio gli avambracci a terra. La schiena rimane distesa, cerco di non inarcare la zona lombare. Inizio a respirare nella posizione. Rimango per alcuni respiri qui, accomodando il corpo in questa posizione un po' insolita, intensa. Posso rimanere qui o posso modificare leggermente la posizione portando le caviglie in linea con le ginocchia e aprendo le punte dei piedi verso l'esterno. Scelgo la posizione che sento più confortevole per me, sapendo che dovrò mantenerla per alcuni minuti. Non forzo. Magari parto con la posizione più semplice. Rimango tutti i respiri che ritengo necessari e quando sento che il corpo si è adattato posso gradualmente cambiare e intensificare. Cerco di rimanere in posizione centrale con il bacino. Immagino il bacino scendere in direzione della terra. Sento l'azione di questa posizione nell'interno coscia e lì dirigo il mio respiro. In particolare ad ogni espirazione immagino i tessuti rilassarsi e ammorbidirsi. Rivolgo l'attenzione all'interno, al mio respiro calmo e profondo. E osservo tutte le sensazioni che emergono. Per uscire dalla posizione avvicino i talloni ai glutei, cammino indietro con le mani, risollevo il busto. Avvicino le ginocchia, mi siedo bene sui talloni, allungo la colonna verso l'alto e appoggio il dorso delle mani sulle cosce. Ad occhi chiusi osservo le sensazioni a livello fisico, mentale, emotivo. Osservo ciò che emerge in maniera spontanea, senza cercare e soprattutto senza giudicare. Osservo ciò che emerge in maniera spontanea. Poi mi siedo lateralmente e libero le gambe. Piego la gamba a sinistra, il tallone va verso il gluteo. Accavallo la gamba destra sopra. Cerco di mantenere le ginocchia in linea. Appoggio bene gli ischi a terra, può essermi utile un piccolo supporto come una coperta ripiegata. Posso mantenere il ginocchio destro sollevato e la pianta del piede destro a terra, oppure portare il tallone verso il gluteo e sovrapporre bene le ginocchia. Inspiro allungando la schiena e nell'espirazione svuoto l'addome, il busto ruota in torsione verso destra. E laddove sono allungo la mano destra dietro, il braccio sinistro è contro la parte esterna della coscia destra. Mi aiutano a stabilizzare la posizione. E qui lascio sprofondare gli ischi nel pavimento. Sento la colonna morbidamente distesa. Il respiro si muove nel corpo e cerco di individuare dove nasce. Ed individuare anche il percorso che prende il respiro in questa posizione di torsione. Cerco di eliminare ogni tensione. Inconsciamente magari sto irrigidendo il braccio oppure sollevando la spalla o contraendo il viso. Ecco, con la prossima ispirazione cerco di ammorbidire tutte queste piccole resistenze. Quindi, con la condizione. Ho mai promovato il reload di premai! CosaMaster Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Inspiro e nell'espirazione vado a ruotare il busto. Lì dove sono mi aiuto con le braccia per stabilizzare la posizione, il braccio destro all'esterno della coscia sinistra, la mano sinistra appoggiata dietro. E quando sento di essere entrata comodamente nella posizione posso provare ad immaginare il percorso del meridiano del fegato che comincia dalla parte laterale dell'alluce, prosegue lungo il collo del piede, passa davanti al malleolo interno e sale lungo la tibia, attraversa poi il ginocchio e continua nella parte interna della coscia fino a raggiungere la zona genitale. Attraversa obliquamente l'addome e va a terminare sul torace circa alla fine delle costole. Provò ad immaginare il respiro che percorre il meridiano. Inspiro dal piede lungo la parte interna delle gambe fino al torace e spiro dal torace giù fino al piede. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Rimango per qualche istante in questa posizione, cercando di percepire le sensazioni che emergono dopo le posizioni appena fatte e lasciando che il corpo torni al suo equilibrio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi vado a portare a gambe divaricate. Anche qui può essere utile un supporto sotto i glutei, la coperta ripiegata va benissimo. Divarico le gambe quanto posso, non cerco per forza la massima apertura. Voglio allungarmi lateralmente, quindi mi possono essere utili due mattoncini oppure un cuscinone in modo da poter appoggiare il gomito. La testa in appoggio sul palmo, il braccio sinistro può essere sollevato, appoggio la mano alla nuca e cerco una posizione comoda per il braccio oppure posso tranquillamente lasciarlo lungo il fianco. Rilasso i glutei, sento l'allungamento dell'interno coscia. Rilasso il fianco destro e le spalle. La mano accoglie il peso della testa. Osservo il respiro che si espande nella parte sinistra del corpo. Il respiro nasce nell'addome, si allarga nel fianco e poi cresce in direzione del petto. Trova spazio nella parte sinistra del petto e poi nella destra. E nell'espirazione ridiscende e avverto distensione. Rimango qui. Rimango qui. Rimango. Rimango. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho esposto i miei supporti sull'altro lato, mi sistemo nella posizione, appoggio il gomito, appoggio la testa alla mano, sollevo il braccio destro oppure lo lascio lungo il fianco. Prendo la posizione nel modo che per me è più comodo. E da qui posso provare ad immaginare il percorso del meridiano della cistifellea. Il suo percorso comincia nell'angolo esterno dell'occhio, poi prosegue verso la tempia, la parte posteriore dell'orecchio, va a disegnare una mezzaluna nella regione laterale della testa e poi scende fino alla base del collo. Prosegue internamente al corpo e riemerge nella piega ascellare. Poi continua lungo la parte laterale della gabbia toracica, raggiunge la zona pelvica e scende lungo il lato esterno della gamba fino a terminare al lato esterno dell'unghia del quarto dito del piede. Immagino il respiro che scorre lateralmente al corpo. Inspiro e l'aria percorre il corpo dalla testa fino ai piedi. Espiro, l'aria risale dai piedi fino alla testa. Quellaire la testa. Guardatello... Variatello.. Ann ab編ire... Questa volta tarda sui girarmi 근 portero... Questa volta tardaCC неитelo a tecima ganga da tecima lagunica... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il braccio destro torna lungo il fianco. Riporto il busto in posizione centrale. Un bel respiro qui. Allontano i supporti. Vado a piegare entrambe le ginocchia, appoggio le piante dei piedi a terra e da qua oscillo con le gambe a destra e a sinistra. Inspiro in posizione centrale e nell'espirazione lascio cadere entrambe le ginocchia da un lato. Inspiro torno in centro ed espirandole lascio cadere dall'altro. Mi muovo al mio ritmo. Rimango sul lato destro. Gamba destra piegata, gamba sinistra distesa dietro. Posso avvicinare il tallone destro al bacino oppure cercare di portare la tibia il più possibile parallela al lato corto del tappeto. Ovviamente la posizione diventa un pochino più intensa e posso utilizzare un supporto sotto al gluteo destro. Di nuovo la mia coperta ripiegata andrà benissimo. Inizio appoggiando i palmi delle mani a terra e mantenendo le braccia distese, il busto sollevato. Respiro qui. Dopo essermi adattata alla posizione per qualche respiro posso scegliere se rimanere così sollevata oppure scendere appoggiando gli avambracci a terra o addirittura portando la fronte a terra o sulle mani. Se non arrivo bene a terra posso tranquillamente aiutarmi con i mattoncini appoggiandomi sui mattoncini oppure su un cuscinone. E qui lascio che il busto cada in avanti, sento la testa pesante, avverto la tensione nel gluteo e lascio che si allenti attraverso il respiro e attraverso il mantenimento immobile della posizione. Divento consapevole del respiro a livello dell'addome e avverto qui espansione e rilascio. Poi risollevo il busto, sposto per un attimo il supporto, piego la gamba sinistra, mi sito di nuovo in centro con le ginocchia piegate, le piante dei piedi appoggiate a terra. Solo un istante in questa posizione ritrovo la centralità e poi ruoto verso sinistra prendendo la posizione su questo lato, quindi gamba sinistra piegata, gamba destra distesa dietro. Scelgo se mantenere il tallone vicino al bacino oppure spostare la gamba in avanti in modo che la tibia sia parallela alla parte corta del tappetino. Uso un supporto sotto al gluteo sinistro in modo da riuscire ad avere il bacino ben bilanciato e ben squadrato in avanti e non avere l'impressione di essere sbilanciata da un lato. Come prima rimango in appoggio sulle mani con il busto sollevato. Respiro per qualche istante qui lasciando che il corpo prenda confidenza con la posizione. Poi se voglio porto il busto in avanti, posso aiutarmi con i mattoncini, appoggiando gli avambracci sui mattoncini o allo stesso modo su un cuscinone. Se non ne ho bisogno posso appoggiarmi direttamente a terra. Mi accomodo e rimango nella posizione. Senza badare troppo alla forma, rimango e ricerco la morbidezza. Un poco a la minuto. Sì, che dopo, rimango e ricerco la morbidezza. Per eliminare la pizza. poi piano piano risollevo il busto tolgo il supporto da sotto il gluteo piego la gamba destra entrambe le ginocchia piegate entrambe le piante dei piedi a terra la schiena si allunga verso l'alto un bel respiro qui e poi mi preparo per scendere in shavasana se voglio posso utilizzare i mattoncini come supporto alle ginocchia anche qui un cuscinone può essere utile distendo bene la schiena a terra distendo le braccia ai lati del corpo i palmi delle mani rivolti verso l'alto chiudo gli occhi rilasso il corpo e lascio che assorba completamente gli effetti delle posizioni di questa sequenza lascio che le sensazioni emergano spontaneamente mi limito ad osservare nella sfera emotiva e mentale il fegato è associato all'iniziativa alla capacità di essere creativi di immaginare pianificare la cistifellea è la sua controparte ed essa infatti è associata alla capacità decisionale la determinazione quella concretezza che è indispensabile per rendere un'idea realtà l'emozione legata a questi meridiani è la rabbia in tutte le sue declinazioni e ciò che voglio portare con me al termine di questa pratica è un atteggiamento interiore di apertura al cambiamento lasciando andare tutte quelle che sono le frustrazioni le indecisioni le insicurezze che possono accompagnare una fase di trasformazione insicurezze a tutti se ripetere un'idea di questa pratica è un'idea di questo è un'idea di questa pratica che possono accompagnare un'idea di questa pratica Quando mi sento pronta inizio a fare piccoli movimenti per risvegliare il corpo dalla posizione. Ruoto su un fianco, rimango qualche istante qui con gli occhi chiusi, respiro tranquillamente e poi mi porto in posizione seduta. Inspirando sollevo le braccia unisco i palmi delle mani ed espirando porto le mani unite al centro del petto. Ancora per qualche istante rimango nelle sensazioni della pratica. E poi lentamente risollevo la testa e apro gli occhi. Namaste. Grazie. Grazie.